Per una tortuosa strada di montagna al confine con la Cina siamo venuti a visitare questo mercato. Per una torta di montagna al confine con la Cina siamo venuti a visitare questo mercato. Qui le ragazze si sposano a 14 anni. Questa è la macelleria. Per una torta di montagna al confine. Per una torta di montagna al confine con la Cina siamo venuti a visitare questo mercato. E' il tabacco che viene fumato col bambù. Prendiamo una tortina di riso. Torta a base di riso avvolta in foglia di banana. Il mercato dei bufali. Questa è gente molto povera. Il mercato di copli si tiene ogni settimana. Per una torta di montagna al confine. Per una torta di montagna al confine. Per una torta di montagna al confine.